E a Giovansan si è svolto un seminario dedicato all'autonomia che è stato organizzato dall'UVP. Vediamo. L'autonomia della Valle d'Aosta fra storia, presente, passato e futuro, riflessioni sulle origini storiche dell'autonomia, lo statuto speciale, lingua e ordinamento finanziario e scolastico. È il primo di una serie di incontri seminario organizzati dall'UVP di Aosta. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Beh, quello di crescere come cittadini nel senso consapevole del termine. Ci rendiamo conto che stiamo vivendo tutti un momento economico, politico molto complesso, si parla continuamente di crisi, però forse ci dimentichiamo che dobbiamo essere dei cittadini consapevoli, che nel momento in cui, ad esempio, si vota, si compie un atto specifico e si esprime una precisa volontà. Quindi è chiaro che bisogna farlo consapevolmente. A volte forse ci dimentichiamo anche chi siamo, nello specifico intendo noi Valdostani, abbiamo una storia specifica, quali sono le radici della nostra autonomia. E visto che è un discorso a cui noi teniamo e che noi come gruppo Ossa dell'UVP ci siamo ritrovati proprio a voler approfondire, è stato semplice nel senso che l'invito è stato esteso a tutti quelli che hanno desiderio di riscoprire anche un po' la nostra storia, le nostre radici. Grazie. 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 Grazie.